Tempo Reale. Tempo Reale. L'informazione in diretta della provincia di Rimini. Tempo Reale. Buongiorno, bentrovati all'appuntamento con Tempo Reale. Inizia una nuova mattinata insieme. Siamo arrivati anche al 12 di febbraio. Simona Molazzani e Andrea Polazzi in ritardo perché quando la mattina c'è Simona che fa la rassegna. No, in realtà è perché stavamo cercando un po' di notizie in merito alla news che ci è arrivata proprio in prima mattinata per cui abbiamo perso alcuni minuti per fare delle verifiche. In realtà di grandi novità al momento non ne abbiamo per cui stiamo indagando. Speriamo di dirvi presto che cosa sta succedendo. Partiamo dalla notizia che abbiamo dato sia durante la rassegna stampa sia durante il primo Tg della mattina perché tutto è partito da una segnalazione che è arrivata proprio poco dopo le 7.30 di un gruppo di trattori che stava marciando credo sulla via Coriano, la prima segnalazione. Sì, la prima segnalazione su via Coriano, 7.30 del mattino. Poi diciamo che i trattori si sono spostati anche su via Marecchiese, sulla statale adriatica, anche in parte dell'autostrada. Ci stanno credo arrivando anche delle altre immagini che poi vi mostreremo se riusciamo. I trattori si sono poi radunati. Circa un centinaio ci è stato segnalato a fianco della statale 16 in un campo all'altezza del cavalcavia che si trova poco distante dalla sede della Guardia di Finanza. Quindi siamo alle porte del centro storico nel tratto di Marecchiese che poi proseguendo conduce fino al centro di Rimini. Tra i motivi della protesta insomma sappiamo quelli che sono girati negli ultimi giorni, quindi si parla di una richiesta di revisione del Green Deal europeo, il contrasto alla concorrenza sleale, la diffusione e alla diffusione dei cibi sintetici, il riconoscimento del valore del Made in Italy. Non c'erano stati annunci di questa manifestazione nei giorni scorsi, quindi non sappiamo neppure quali sigle eventualmente associazioni possano aver organizzato la protesta. Ci stiamo informando. una protesta che è stata organizzata appunto in modo diverso, quindi cercheremo appunto di darvi aggiornamenti nel corso della mattinata. Allora intanto possiamo farle vedere le fotografie, anzi ringraziamo il nostro ascoltatore che è stato il primo tra l'altro questa mattina Matteo a darci l'informazione che i trattori si stavano muovendo, poi ne sono arrivate altre durante il corso della mattinata e qui siamo al bordo della statale 16. Esatto, ci sono anche alcuni cartelli, in uno di questi leggiamo al di là appunto di un richiamo all'assessore Cevoli di antica memoria da Zelig, chiediamo il giusto valore per la qualità dei nostri prodotti. Questo si legge in uno dei cartelloni, vediamo se ce ne sono appunto anche altre di immagini. Questi sono cartelloni che sono diciamo issati ai trattori e poi alzati verso l'alto in modo da essere ben visibili anche a chi passa lungo la strada. Bene, leggo un altro sempre dalle foto che ci hanno inviato e quindi ringraziamo tantissimo perché loro si sono posizionati proprio in modo da essere visti almeno da coloro che passano, speriamo che non venga creato particolare. Cappucce, brioche, no, acqua e biscotti di grillo. Infatti sappiamo bene anche le polemiche sulle nuove farine e quindi anche su questo si protesta. Insomma sono tanti i cartelli ma sono tanti anche i trattori che si sono mosse. Noi sono arrivate segnalazioni da Cattolica, da Riccione, appunto dalla Stata alle 16, da Via Coriano. Probabilmente insomma c'è stato un appello collettivo agli agricoltori del nostro territorio. Ora noi abbiamo queste informazioni, possiamo vedere scorrere qualche immagine, qualche fotografie. Speriamo nel breve di potervi anche dare appunto informazioni più specifiche in merito a chi ha organizzato perché ricordiamo che il tema degli agricoltori che stanno protestando è un tema a livello nazionale, è un tema molto più grande a livello europeo. Sappiamo bene come i trattori abbiano marciato anche su città importanti della nostra Europa. Diciamo che in Italia... In un altro dei cartelli vedo ingrandendo si legge stop alle importazioni. Diciamo che in Italia il fronte degli agricoltori che è arrivato a Roma nei giorni scorsi ha incontrato anche il ministro Lollobrigida ma ha speso parole anche la premier Meloni sul tema dell'agricoltura, della protezione dell'agricoltura italiana e sul suo valore. Fronte degli agricoltori che un po' poi si è spezzato perché da una parte c'è chi è stato rassicurato anche dalle parole del ministro e del governo che invece ha deciso poi di continuare a protestare. Il fatto che a Rimini questa protesta arrivi oggi forse ci dice qualcosa per cui siamo anche sulle tracce di informazioni specifiche e speriamo di poter vele dare nell'arco di poco tempo. Quindi protesta in corso per chiunque insomma si passasse, ricordiamo, sulla via Marecchiese in questo momento perché a questo punto i mezzi si sono radunati in questo campo a ridosso della Marecchiese subito dopo il cavalcavia con la statale 16 direzione centro storico andando verso il centro sulla destra nello stesso lato in cui poi insiste anche la caserma della Guardia di Finanza. Un centinaio di trattori parcheggiati lì con scritte e insegne per questa protesta di cui cercheremo di darvi ulteriori dettagli nel corso della mattina. Stiamo mettendoci in contatto anche con i vari rappresentanti di categoria proprio del settore agricolo per capire un po' da chi è partita anche l'organizzazione di questa manifestazione spontanea perché appunto non era arrivata, ma è giusto che è una sorta di flash mob dei trattori Andrea. Il flash mob è di solito più fermo, loro hanno anche percorso un tragitto. Esatto, esatto, solitamente chi fa il flash mob non è così visibile, cioè non si muove in trattore quindi non è facile da identificare prima. A questo punto partiamo con i nostri contatti perché stamattina ancora non l'abbiamo fatto, anzi se passeggiando, andando in giro per Rimini anche in automobile, vedete dei trattori, non dico che dobbiate fermarvi a fare le foto che può essere pericoloso. Se avete la possibilità volentiero, semplicemente fateci sapere al 337 511 336 se vi è capitato di incontrare dei trattori questa mattina sulla via che normalmente percorrete, che ne so, per andare al lavoro, per accompagnare i bambini a scuola o altro. Noi siamo in attesa anche delle vostre informazioni 337 511 336. Poi chiaramente c'è la nostra pagina Facebook di tempo reale, anche lì aspettiamo i vostri commenti. e i vostri saluti. Allora adesso facciamo invece un passo indietro alla giornata di sabato quando è iniziata a circolare la notizia che sui tavoli dell'amministrazione comunale era finalmente arrivato il progetto per il nuovo stadio con un incontro avvenuto poco prima del derby. Diciamo che poi sono arrivate anche delle precisazioni da parte dell'amministrazione quant'altro ma il nostro Roberto Bonfantini ha cercato di ricapitolare un po' la situazione. Sentiamo. Nel giorno del derby il Romero Neri è stato protagonista anche a Palazzo Garampi dove all'ora di pranzo il sindaco di Rimini, Jamil Sadegolvad, ha ricevuto l'imprenditore Antonio Ciuffarella seduto la sera durante il derby con il Cesena in tribuna centrale vicino al primo cittadino e titolare di Aurora Immobiliare, il gruppo che sta lavorando alla ricostruzione dello stadio riminese. Insieme alla presidente del Rimini Football Club Stefano Di Salvo e al marito Stefano Petracca. Il club biancorosso aveva infatti annunciato i primi giorni di dicembre di aver trovato un accordo con Ciuffarella per contribuire alla costruzione della sua nuova casa. Le bocche restano cucite ma sembra scontato che sul tavolo del sindaco sia finalmente arrivato il progetto di fattibilità atteso in un primo aumento entro ottobre 2023, scadenza poi slittata di qualche mese a causa del cambio di proprietà della Rimini Calcio. Quando poco dopo la metà del mese di maggio 2023 Ciuffarella si era presentato alla città, i suoi interlocutori erano infatti la loro presidente Alfredo Rota ed il direttore generale Franco Peroni. Ed era seduto al tavolo con loro, oltre che con il sindaco, che Ciuffarella aveva illustrato come sarebbe diventato il Neri. Un impianto moderno all'inglese su due livelli, senza pista d'atletica, in grado di contenere dei 12 e 15 mila spettatori, tutti al coperto, con spogliatoi, skybox, area hospitality e una parte più commerciale, con palestre, spa, ristoranti, bar e centro medico. Proprio la possibilità di gestire l'attività del nuovo impianto, soprattutto in ambito sanitario, comparto nel quale la proprietà della Rimini Calcio è già attiva, potrebbe aver dato alla presidente di Salvo l'input per alzare la mano e rispondere presente. Per la realizzazione del nuovo Neri sembra ormai superata l'idea di ricorrere un project financing, ossia una partnership tra pubblico e privato, per sfruttare invece il decreto Stadi che ha di recente subito qualche modifica che ne ha semplificato il ricorso. Di fatto l'amministrazione metterebbe a disposizione l'area senza ulteriori contributi economici. Il piano finanziario dovrebbe provvedere a coprire i costi per la realizzazione del manufatto e a garantire un utile stimato dalla stessa legge. Diciamo che poi ci sono state alcune precisazioni da parte della società, da parte del comune di Rimini. Insomma, sembra che di fatto il nero su bianco, il progetto ancora non sia arrivato, ma sia prossimo ad arrivare sui tavoli dell'amministrazione comunale. Comunque alcuni dettagli sono emersi. Qualche rapido giro di saluti agli amici che ci stanno dando il buongiorno alla nostra pagina Facebook. Sulla nostra pagina Facebook salutiamo quindi Antonio, Walter, Sabrina, Gianni, Stefano e Manuela. E restiamo nell'area dello stadio perché nei giorni scorsi, dopo averne parlato anche nell'ultima puntata di Fuori dall'Aula, il tema dell'area di via Ugo Bassi è tornato di attualità anche a seguito di un incontro che la proprietà Asia Rimini, un sviluppo immobiliare, ha tenuto con la cittadinanza, un incontro pubblico. Dove, diciamo, Ariminum ha ribadito le sue posizioni, ha anche spiegato, come poi c'era stato detto in trasmissione dallo stesso consigliere PD Giovanni Casadei, di fatto la proposta di realizzare in quell'area non più un progetto con residenziale e quant'altro, ma un progetto solo centrato sull'area commerciale da 6.000 metri quadri è un po' venuto meno. Infatti ci sarà questa nuova proposta dove si presenterà l'amministrazione alla volontà di realizzare solo il commerciale senza le aree ulteriori che saranno cedute nell'ipotesi di Asi direttamente all'amministrazione comunale. Il nostro Maurizio Ceccarini ha ricapitolato un po' l'esito di questo incontro che ha visto protagonista il coordinatore di Rimini Life Marco D'Adalto. Allora sentiamo quello che è emerso. Allora questo servizio in questo momento non è disponibile diciamo che però queste sono le immagini che stanno scorrendo insomma perché poi è stato fatto anche il punto nelle ultime ore con un Adalto che ribadisce il fatto che non ci sia nessun hub logistico all'interno della struttura. Questi 1.500 metri di commerciale avrebbero a servizio un'area di 4.500 ma non per creare qualche cosa che non sia semplicemente un'area di servizio e di supporto allo stesso supermercato. Ma vediamo il servizio. Ariminum Sviluppo Immobiliare proprietaria dell'area dell'ex Questura di Via Bassi presenterà entro febbraio la formale richiesta al Comune per realizzare solo l'area commerciale. 1.500 metri di vendita e 4.500 a servizio cedendo la restante parte gratuitamente all'amministrazione. La proposta era stata annunciata a dicembre ma hanno fatto notare da Palazzo Garampi non era stata ancora messa nero su bianco. Asi ha anche chiesto un incontro a prefetto, questore e sindaco per affrontare il tema della sicurezza nell'area dello stabile degradato. La nuova proposta, ha spiegato nell'incontro pubblico Marco D'Adalto, costituisce per Asi una grande rinuncia economica ma può risolvere subito il problema della sicurezza e del degrado, fornire supporto allo sviluppo dello stadio e alle esigenze di parchi del quartiere, consentire di non utilizzare risorse finanziarie pubbliche per gli espropri, ridurre di 17.600 metri quadri della superficie costruita, restituire alla città un quartiere centrale rigenerato. D'Adalto ha ribadito per l'ennesima volta che il supermercato non sarà un hub logistico, creatore di flussi di traffico insostenibili. La proprietà ha bisogno di salvaguardare il motore economico dell'operazione e di realizzare il supermercato con le aree e accessorie previste. Poi il Comune è libero di pianificare in quello spazio ciò che crede di migliore interesse pubblico, compreso un posizionamento diverso delle residenze sociali in programma perché per Asi non possono essere realizzate in quel contesto e di fronte alla curva di uno stadio magari anche di aumentarle se l'amministrazione ritiene opportuno per auspicare in conclusione che sia terminata la stagione degli equivoci. Ecco, nei giorni seguenti poi a questo incontro Asi ha incontrato anche i residenti che si sono riuniti nel comitato Basta de Grado la ex questura, ribadendo di fatto quello che abbiamo sentito nel servizio, quindi la volontà di presentare in tempi rapidi entro la fine del mese questa nuova proposta all'amministrazione comunale con l'auspicio che sia la volta buona, diciamo così. Però ribadendo anche all'interno dell'incontro presente all'incontro c'era lo stesso D'Adalto, tutte le critiche rivolte all'amministrazione. Non ultima, diciamo che l'aspetto nuovo di questo colloquio relativamente è il fatto che Asi ha annunciato la volontà di presentare dei ricorsi alla Corte dei Conti visto che questa situazione di stallo, oltre a creare danni economici alla proprietà, li sta creando anche allo stesso comune. E secondo il responsabile di Rimini Life questi ricorsi potrebbero avere delle ricadute anche a livello personale sugli attuali amministratori proprio per via del fatto che nel corso di questi anni, diciamo così, hanno tenuto un comportamento che Asi ha definito non troppo trasparente. E poi diciamo che c'è l'appello dei cittadini che quello che vogliono è che venga messa a mano a quell'area e quindi la richiesta è quella di fare in fretta, presentare questa nuova proposta e poi convocare subito un incontro tra comune e proprietà e anche cittadini stessi, i residenti dell'area che stanno subendo le conseguenze negative di quello stabile e degradato. All'amministrazione si chiede appunto condivisione per quanto riguarda questo progetto perché anche i cittadini temono e l'avevano detto in precedenza che la realizzazione anche di nuove aree commerciali che possono arrivare lì come allo stadio e poi la città dell'area della sicurezza possano in qualche modo incidere anche sulla vivibilità dell'area. Allora, guarda, su questo Andrea proprio pochi minuti fa è arrivata una precisazione da parte proprio di Rimini Life e quindi di Dadalto che forse è opportuno leggere perché richiama alcune dichiarazioni che lui avrebbe fatto ma che in realtà non corrispondono al vero. Per cui adesso vado a recuperare un attimo la mail se la trovo perché è arrivata proprio pochi istanti fa. Eccola qua. Allora, come ricostruito dal comitato Basta degrado ex Questura? Nei giorni scorsi in rappresentanza di Asi, queste sono proprio parole di Dadalto, ho incontrato i cittadini ai quali è stata ribadita la nostra posizione. Ho spiegato carte alla mano perché da parte del comune il continuare a parlare di hub logistico significa non aver letto il nostro progetto. Quindi questo insomma è una cosa che abbiamo detto più volte e quindi secondo lui c'è una strumentalizzazione rispetto ad un dialogo che potrebbe essere costruito. Ma sono argomenti che insieme alla promessa della consegna formale di una seconda proposta abbiamo già dichiarato pubblicamente. Rispetto al racconto del comitato invece questo tiene a precisare Dadalto, devo invece smentire di aver detto che all'interno dell'area ci sono persone armate. Non abbiamo nessuna segnalazione né sensazione di questo tipo, diversamente avremmo immediatamente informato la Questura con cui siamo in contatto e che sarebbe intervenuta prontamente. Quindi lui dice io non ho detto questa cosa quando ci siamo incontrati con i cittadini. Sarebbe invece importante che il comitato, comunque i cittadini dopo aver incontrato l'amministrazione Asi, esprimessero chiaramente la loro opinione su qual è il percorso che potrebbe risolvere la situazione. Diciamo che Asi prova ad avere una sorta di endorsement anche da parte dei residenti che però più volte hanno mantenuto anche una posizione, a mio avviso, insomma chiaramente noi siamo un po' super partes nel senso che non abitiamo nella zona, non abbiamo interessi specifici. I cittadini dicono come ve la gestite la dovete decidere voi. Noi quello che vogliamo è che non ci sia più questo degrado a dove ci sia una situazione di maggiore vivibilità. Insomma comunque è arrivata questa nota di Asia, è importante dichiarare in particolare la dichiarazione attribuita da alto sul fatto che nell'edificio ci sono individui armati e che lui insomma dice di non aver riportato. Come sempre caro Andrea in tempo reale. Invece ho una notizia relativa alla questione dei trattori di cui stiamo parlando un po' questa mattina perché abbiamo messo la nostra redazione sulle tracce di qualche informazione in più. Abbiamo provato in particolare a chiedere ad una delle realtà insomma più importanti rappresentative degli agricoltori anche nel nostro territorio che è la Coldiretti che però ci dice che la manifestazione non è sponsorizzata da loro e che però potrebbero darci qualche informazione. Per cui vedremo insomma noi siamo qui in diretta fino alle 10.30. Speriamo che qualche info proprio su chi ha mosso anche i trattori perché sono tanti, sono un centinaio di trattori, proprio per far sì che la loro protesta anche sul nostro territorio sia maggiormente visibile. Ci è arrivato anche un video, un piccolo video di qualche secondo in merito se riusciamo vediamo se è fattibile. Ecco qua vediamo la zona dove si sono radunati il centinaio di trattori che prima vi abbiamo mostrato in foto con i loro cartelloni. Siamo sulla destra in un campo vuoto a margine della via Marechiese subito dopo il cavalcavia con la statale adriatica. Queste le immagini che ci sono arrivate. Ringraziamo di cuore proprio un nostro ascoltatore Matteo che ci ha fatto pervenire, non so se l'abbia fatto lui direttamente ma sicuramente qualcuno ben informato che ci ha fatto arrivare queste immagini. Salutiamo Nunzio, diamo buongiorno anche a lui. Poi un amico ci chiede in merito invece allo stadio, tempo reale, ma il nuovo stadio dove? Parliamo del nuovo stadio di Rimini che dovrebbe sorgere nella medesima area in cui è quello attuale, quindi lo stadio Romeo Neri sempre nella zona appunto a cavallo tra la via Flaminia e proprio queste aree di cui parlavamo, quindi di Ugo Bassi e quant'altro. Tra l'altro, stavo commentando con Andrea, abbiamo visto uno via l'altro i due servizi, uno appunto sull'idea progettuale dello stadio e l'altra di Asi sullo stabile di via Ugo Bassi, devo dire quanti bei rendering, cioè a livello di questi bei rendering con alberi, strutture, palazzine e vabbè. Buongiorno anche a Cinzia che ci fa arrivare i suoi saluti sulla nostra pagina Facebook di Tempo Reale. Noi procediamo sempre vigili anche sulle notizie proprio di questa mattina. Dobbiamo restare sempre vigili e a questo punto parliamo di false recensioni. Parliamo di farci recensioni. Servizio che è andato in onda nel telegiornale dello scorso sabato, si parla di false recensioni e offese personali in rete con un ristoratore ariminese che ha deciso di muoversi anche dal punto di vista legale denunciando gli autori. Sentiamo il servizio e poi magari di rientro anche alcune dichiarazioni che oggi ci sono sui quotidiani. Sì, esatto, proprio così. A questa vicenda. Davanti a quelle recensioni palesemente diffamatorie che contenevano persino offese gratuite, ha detto basta, ha preso il telefono e chiamato il suo avvocato. Denunciamo. Simone Angeli, titolare insieme al fratello Daniele dei ristoranti Kibur Dlaz e il pesce innamorato a Marina Centro, ha deciso di passare al contrattacco e attraverso l'avvocato Paolo Ghiselli, ha segnalato in un esposto presentato in procura Rimini, gli autori di due recensioni su Google con insulti diretti alla sua persona. Un gesto, quello del ristoratore riminese, per far capire che il web non è una zona franca dove ognuno può scrivere di tutto. Un conto è manifestare un'opinione, anche critica purché educata, sulla qualità del servizio o del cibo. Un altro invece è offendere gratuitamente il personale o il titolare, riportando magari falsità. Ecco, quest'ultimo è un reato ed è bene che si sappia, spiega l'avvocato Ghiselli. Sempre Angeli in passato era stato accusato in una recensione di un turista tedesco, spazientito suo dire per il servizio troppo lento, di non avere messo regolare scontrino. Anche in quel caso si era trattato di una bugia sulla quale il ristoratore non aveva voluto soprassedere. Nella denuncia presentata, Angeli aveva allegato sia lo scontrino regolarmente messo, sia la ricevuta del bancomat usato dai clienti per saldare il conto. Quasi sempre il danno d'immagine si traduce in danno economico, precisa l'avvocato Ghiselli. E il mio cliente, denunciando gli autori delle false recensioni, ha voluto lanciare un messaggio rivolto anche alla sua categoria, ovvero che gli strumenti di tutela esistono ed è importante utilizzarli. E anche oggi sui quotidiani si torna sul tema appunto di questo problema, definiamolo così, recensioni. Proprio così Andrea, siamo pronti ad intasare le aule dei tribunali italiani, ma viste le gravi lacune legislative abbiamo preparato anche una proposta di legge che servirà non solo a regolamentare meglio la materia, ma soprattutto a migliorare l'esperienza di chi utilizza correttamente questi strumenti. Le parole sono di Giuliano Lanzetti, titolare del Bounty di Rimini, che appunto dopo la protesta giunta da questo ristoratore, ma a cui poi se ne sono aggiunte tante altre, perché effettivamente quella delle recensioni, allora le recensioni in sé sono anche una buona cosa per chi vuole andare in un ristorante, vuole andare in un locale, in un hotel, legge un po' come sono trovate le persone, quali sono i servizi che vengono offerti, però purtroppo tante di queste recensioni, spesso mi verrebbe da dire anche ad arte, sono assolutamente false. Io ti posso assicurare che avendo parlato anche con addetti ai lavori, c'è anche gente che finito ad esempio il suo soggiorno in hotel chiede, posso avere uno sconto? No. Ah beh, allora vi farò una brutta recensione. E queste sono cose che poi restano e che fanno venire tanti dubbi poi su quelle recensioni che leggiamo, specie su quelle che magari sono anche fuori scala. Sì, o super terribili o super meravigliose. Esatto, però cosa succede poi? Che è vero che ci sono, che andrebbero tolti gli estremi, no? Come insegna la statistica, però ti lasciano un po' la pulce nell'orecchio, no? Quei commenti negativi e magari scegli diversamente e senza averne ragione. È così, è così, anche perché vogliamo dire Andrea, al di là di quelle che possono essere critiche, critiche buone, critiche, cioè oggi ormai il giudizio è noi, tutti noi dobbiamo sottoporci a questa agogna del giudizio, alle volte veramente poco costruttivo. Però al di là di quello ci sono anche offese gratuite, ci sono anche violenze e aggressioni verbali, tant'è che anche per i commenti social sappiamo bene che c'è il reato di diffamazione, quindi è evidente e non sarebbe la prima volta che qualcuno poi viene anche condannato per aver scritto alcune cose nei confronti della persona stessa, cioè perché poi si entra in una dimensione veramente anche difficile da valutare. Insomma, cosa dice Lanzetti? Che insieme all'avvocato Paolo Righi hanno creato un vero e proprio protocollo che tutela gli imprenditori, quindi una sorta di task force che da Rimini, che insomma è una realtà che di ristoranti, di locali, di strutture ricettive ne ha tante, potrebbe anche dilatarsi proprio come possibilità di difendersi rispetto a quello poi che accade in rete. Certo è che forse su 199 persone hanno buone intenzioni quando commentano, sia nel bene che nel male, quindi con il desiderio di aiutare anche gli altri, in realtà poi c'è sempre quella piccola percentuale che però completamente mette in dubbio tutto il resto, perché è così, perché poi viene messo in dubbio anche tutto il resto. Un messaggio, allora, sì noi ne parliamo se dei trattori che ci sono oggi a Rimini, abbiamo fatto vedere anche delle immagini, probabilmente se ci sono arrivate delle altre immagini da annunzio, in questo caso non sono i trattori una volta arrivati nel punto di ritrovo dove si trovano tuttora, almeno in base alle ultime indicazioni che abbiamo, ma questo è il tragitto che hanno fatto per arrivarci. Mostriamo appunto questo movimento lento dei trattori che oggi ricordiamo sono passati dalla via Coriano, sono passati dalla statale 16, sono passati dalla Mare Chiesa e poi proprio a margine della Mare Chiesa in un campo si sono fermati e hanno destato l'attenzione di molti, anche perché come abbiamo mostrato poco fa sono veramente tanti, almeno un centinaio i mezzi che hanno calcato le strade, tra l'altro sia in un senso che nell'altro, come possiamo vedere dalle immagini, lo diciamo per chi ci segue ovviamente in televisione che stanno scorrendo in questo momento, in un senso e nell'altro di marcia, ovviamente prima di arrivare al punto di ritrovo dove tuttora sono fermi con tanto di cartellonistica. Esatto, magari poi rifacciamo vedere anche le immagini proprio dei trattori fermi perché sono un bel colpo d'occhio diciamo così, immaginiamo anche la difficoltà questa mattina a muoversi sulle strade perché sai trattori 5 o 6 che anche fanno una fila nel momento di maggior traffico perché insomma segnalati 7 e mezzo, 8 e mezza quando le persone si muovono per raggiungere il posto di lavoro o comunque le loro attività ma vediamo queste immagini proprio, quindi siamo ai margini, quindi non stanno dando in nessun modo fastidio in questo momento della via Marecchiese ma a due passi dalla strada vedete quanti trattori. Ora noi pensando che ci fosse un'organizzazione anche da parte di associazioni del settore abbiamo provato a chiedere, avevamo sentito proprio la call di reti con cui abbiamo magari anche qualche contatto diretto che però ci fanno sapere che loro lo hanno scoperto questa mattina quindi una delle principali associazioni non è legata non c'era stata nessuna informazione girata quantomeno a mezzo stampa. Esatto, esatto proprio così tra l'altro loro dicono insomma che preferiscono non intervenire perché poi ogni territorio ha le sue ragioni rispetto a questa cosa sappiamo bene che poi diventa anche un lavoro in particolare per le associazioni di categoria di diplomazia anche nel dialogo con il governo e quindi insomma cercheremo, stiamo mandando anche qualcuno sul posto di capire come si sono mossi oppure hanno una loro chat su whatsapp e si sono ieri sera organizzati per fare questa protesta anche nel riminese così speriamo anche di avere risposto a José che probabilmente si era collegato insomma dopo che noi avevamo dato la notizia. Diamo il buongiorno anche a Cinzia e leggiamo il messaggio di Colomba che dice questa mattina fra chi protesta ci sono anche io anche se una protesta diversa a proposito delle liste d'attesa per le visite mediche. Questa mattina pensavo di andare ad una visita di controllo oculistica perché ho la pressione alta ho prenotato in agosto 23 prima di partire ho controllato l'orario ma mi sono accorta che è il 12 febbraio ore 11 ma del 2025 sarà meglio che insieda. E come è possibile però dopo è così. Agosto 2023 febbraio 2025 quasi due anni. Un anno e mezzo buono per una visita oculistica per una pressione alta quindi diciamo che questi sono quei casi che ti fanno pensare allora vogliono che vada dal privato perché se tu chiami il privato dopo una settimana se poi aspetti molto. Anche perché la pressione oculare è una cosa anche importante da tenere sotto controllo. Grazie Colomba per questa segnalazione e sì sediamoci tutti noi siamo già seduti ma forse bisogna veramente prendersi dieci secondi per respirare a fondo. Per le vostre segnalazioni oltre alla nostra pagina facebook di tempo reale anzi grazie per i vostri commenti per i vostri saluti che giungono sempre numerosi anche il nostro 3375 11336. Grazie anche Anunzio che rispetta la nostra sollecitazione ma li avete visti i trattori immediatamente ci ha fatto arrivare un piccolo video. E continuiamo continuiamo parlando di controlli che si concentrano sui bidoni. Eh sì. Con le cosiddette fototrappole. Le fototrappole che sono quegli occhi elettronici che vanno a immortalare le persone che conferiscono in maniera non adeguata la scorretta e i rifiuti e insomma le lasciano in giro e quant'altro. Diciamo che adesso in molte località e in molti tratti anche delle nostre città c'è il porta a porta che aiuta in qualche modo perché insomma non ci sono più bidoni stradali che non sono proprio un bel vedere ma non tutte le aree sono idonee per quel tipo di servizio. Allora potrebbe anche essere che in alcuni casi la raccolta non è puntuale quindi il mezzo dove va a passare non è passato il bidone si riempie non c'è sufficiente spazio. Molte volte alcuni bidoni sono hanno delle problematiche nell'apertura perché non funziona la chiavetta elettronica quindi restano sempre aperti o sempre chiusi. Però ci sono anche tanti altri e mi verrebbe da dire che forse potrebbero essere anche in maggior numero che di fianco al bidone ci lasciano. Otto ho un divano non sapevo dove metterlo così lo lascio un attimo lì che se qualcuno mentre va a conferire l'immondizia volesse sedersi è un servizio pubblico oppure sedie oppure frigoriferi. Cioè siccome tra l'altro nel nostro territorio c'è la possibilità che li vengano addirittura a prendere a casa questo tipo di rifiuti ingombranti perché? Perché li lasciamo vicini ai cassonetti? Le fototrappole in questo senso danno una mano ma ascoltiamo il servizio. Sono state 162 le violazioni registrate a Rimini nel 2023 dalle fototrappole, le videocamere a sensori posizionate a rotazione vicino ai cassonetti della differenziata per individuare chi non rispetta le regole del corretto conferimento dei rifiuti. Una trentina le postazioni ritenute maggiormente critiche monitorate per periodi di circa una settimana individuate sulla base delle verifiche dell'ufficio ambiente del comune, su segnalazione di cittadini, era e guardie ecologiche volontarie. Le postazioni con più infrazioni accertate sono quella di via Francesco Frioli, tra Riva Azzurra e Miramare, addirittura 91, via Lecarlo Matteucci, in zona Grattacielo, 21 violazioni e via dei Partigiani alla Colonnella, 19. Quanto ha tipologie di violazione? In testa c'è l'abbandono dei rifiuti fuori dai contenitori. Poi il conferimento non corretto. In entrambi i casi la sanzione è di 104 euro. Dal 2021, anno di attivazione a oggi, le violazioni accertate grazie alle fototrappole, sono state 536. E questi insomma sono i controlli sui nostri conferimenti, quindi poi spesso insomma grazie ai nostri conferimenti si riesce anche a capire chi è stato, anche se pensavamo di essere scampati. C'è Colomba di cui abbiamo raccontato poco fa le vicissitudini di questa visita oculistica che è prenotata nell'agosto 23 e fissata per il febbraio 2025, che dice non sono sola, una visita dal ginecologo da ottobre 2023 ad aprile 2025. Diciamo che questa è la tempistica quasi standard e lo possono raccontare in molti. Diciamo anche che spesso poi quando vengono elaborate le statistiche si dice perché la gente vuole andare a fare questo è diciamo che le statistiche elaborate dalla sanità. Io vorrei chiedere però alla nostra Colomba, per dire, siccome tu dici anche la possibilità di andare in altri ospedali, Colomba ti era stato proposto di andare un po' più lontano in tempi più vicini? Perché diciamo che le statistiche elaborate dalla sanità tengono conto delle disponibilità in tutta l'Auslava Magna, questo vuol dire che se abiti a Cattolica ti possono chiedere di andare a Cesena. A Cesena. A Cesena o a Renna, se tu rifiuti e vuoi la prossimità, allora hai da attendere ulteriormente, però diciamo che forse non è proprio così semplice, per molti almeno. Per sapere, in realtà la nostra Colomba giustamente pensava fosse 2024 e invece il 2025. Magari in questa sua richiesta, anzi anche se qualcun altro, rispetto a questa cosa che diceva Andrea, che secondo me è molto corretta, nel senso che è chiaro che se una urgenza, dice vado volentieri, mi farò portare, anche se non ha la possibilità, anche più lontano, se c'è la possibilità di fare delle visite in tempi più congrui. Mi chiedo se alle volte non ci sia neanche questa possibilità, cioè che quindi il primo posto utile è effettivamente tra un anno e mezzo, in qualsiasi zona della nostra Asla e Romagna. Per cui se ci volete dare qualche informazione in questo senso, qualche storia personale, noi siamo volentieri qua per raccontarle. Salutiamo anche Gian Maria che dice adesso abbiamo anche la delazione sui rifiuti. E quello è vero, ce n'è chi guarda la finestra per vedere come conferisce i rifiuti. Noi c'è porta a porta, quindi è più semplice. Prima di passare al prossimo servizio, ieri abbiamo fatto alcune immagini, invece hanno una zona che è pronta a riprendere vita. Siamo nella zona della stazione di Rimini, qualche giorno fa se ne era parlato anche sui quotidiani. Dopo oltre tre anni e mezzo torneranno infatti a riaccendersi le luci nel locale di piazzale Cesare Battisti che si affaccia sulla stazione ferroviaria di Rimini, proprio sull'ingresso. Una buona notizia anche in termini di presidio, di sicurezza proprio del territorio. L'area fino all'ottobre 2020 era occupata dal bar otto e mezzo, chiuso poi a seguito di un sequestro giudiziario conseguente a un'indagine della Guardia di Finanza, riaprirà col nome di Rimini 55, con servizio bar, caffetteria, fast food, ma insomma non è che siamo qui a fare pubblicità ad un locale, diciamo solo che c'è un nuovo presidio che torna in un'area che ne aveva bisogno, con tanto di Deore esterno che è stato confermato. Già c'era, si leggono anche le fotocopie appese proprio sul Deore dove si dice che si è alla ricerca di personale, ovviamente tutto sembra pronto per la riapertura e l'auspicio quello che possa esserci il prima possibile. Ci stiamo avvicinando a un periodo che è quello anche primaverile dove i turisti iniziano ad arrivare anche via treno, tanto più in estate e sicuramente quel presidio davanti alla stazione darà una mano anche alle forze dell'ordine. E quindi insomma c'è anche questo aspetto importante visto che nei giorni scorsi avevamo parlato di negozi che chiudevano, poi abbiamo fatto un servizio invece anche su realtà che hanno aperto ed effettivamente in particolare proprio alla notizia con i dati delle chiusure date anche insomma a livello provinciale qualcuno ci aveva detto ma no ma sì è vera la notizia però dite anche chi apre e quindi insomma qualcuno ce l'ha segnalato e noi siamo felici di poter dire anche chi apre in questi contesti così complicati. Sul tema invece della sanità c'è un messaggio che ci arriverà a Giorgio, una battuta che dice l'Ausl allunga la vita, in effetti sì se devi aspettare la data delle visite la vita te la allunga. Assolutamente, questa è un'ottima considerazione, speriamo di cuore che sia così, noi auspichiamo vita lunghissima a tutti gli amici che ci ascoltano e che seguono tempo reale. A proposito di polemiche Andrea, se vuoi me ne ha aggiunto un'altra, nei giorni scorsi e forse potremmo recuperare anche la notizia sul nostro sito ma non è neanche così fondamentale era arrivata nota dal comune di Riccione che sarebbero partiti i lavori per il sottopasso di Viale La Spezia. Siamo nella zona insomma diciamo nord della città di Riccione, siamo in una zona che probabilmente ricorderete perché durante l'alluvione di maggio scorso è stato un disastro, a parte che era stato un disastro un po' in tutte le zone dei sottopassi riccionesi ma lì c'erano state persone che addirittura erano state recuperate dai vigili del fuoco perché è una zona, quella di Viale La Spezia dove c'è una discesa e chiaramente appena succedono fenomeni particolari va sott'acqua. Non ultimo, qualche settimana fa ve l'avevamo raccontata, avevamo anche proposto una foto proprio di quella zona. La polemica dove sta? Arrivata la notizia da parte del comune che in due fasi si pensa alla riqualificazione di questo passo. Bene, benissimo, salvo che innanzitutto in questa prima fase, quella per cui ci sono i denari diciamo, è una riqualificazione diciamo per cercare di tamponare il problema. Quindi già sarebbe qualche cosa. Però il problema è che stanno valutando e stanno già facendo delle verifiche per poter cambiare completamente l'impianto perché un problema c'è. Però su questa ancora siamo in una fase diciamo un po' mancano un po' di tempo a capire se effettivamente poi questo progetto e anche i finanziamenti per rivedere tutto l'impianto ci saranno. Cosa succede? Che proprio la pubblicazione di questa notizia, insomma da parte nostra ma anche della stampa locale, sono intervenute delle persone che vivono in quella zona e che vogliono anche ricordare che la problematica proprio di eh di del sottopasso di via La Spezia, di via Portovene, insomma di quella zona lì è molto legata anche alla costruzione del eh TRC del metromare. C'è Edoardo che proprio ha commentato la notizia dicendo apprendo che il sottopasso dovrebbe subire degli interventi. Mi fa piacere sapere che questo angolo di Riccione e i suoi residenti finalmente abbiano l'attenzione che gli è mancata qualche anno fa. Ricordo in particolare il contraddittorio negato dai politici di allora ma si torna parecchio indietro quando progettavano la metropolitana di costa, quindi pensa quanto si torna indietro, che hanno stravolto la conformazione del viale e di tutta la città e che poi si sono nascosti dietro argomentazioni improbabili lasciate insomma anche al dialogo cittadino. Il riferimento al metromare, quell'opera in perenne perdita non è casuale perché prima del metro di costa se qualcuno provava ad attraversare la galleria dopo forti piogge rischiava di fermarsi con l'auto in panne. Mentre adesso per chi voglia farla finita è possibile scegliere se buttarsi nel porto o in questa disgraziata intercapedine dopo un'alluvione. Insomma chiaramente sono parole forti però per dire che insomma non è solo legato all'impianto ma probabilmente anche l'arrivo di questo muro che contiene la metropolitana di costa ha provocato gravi problemi. Era già una situazione delicata adesso lo è molto di più per cui benvengano i lavori ma forse servirebbe qualcosa di più. Valentino invece commenta la notizia delle fototrappole dicendo perbacco mai nessuno che butti un troll al colmo di banconote a corso legale. In effetti Valentino e poi nessuno che le trova. Secondo me chi le ha trovate non lo dice. Solo tu lo diresti? Io probabilmente sì ma tu sai che io sono un po' particolare. Un po' strana. Va bene procediamo intanto grazie per tutti questi commenti e le segnalazioni che ci stanno arrivando su mille fronti diversi. Ora andiamo a parlare invece della giornata mondiale del malato che si è celebrata ieri in tutta Italia ma che in tutto il mondo visto che è giornata mondiale. In realtà nella nostra diocesi c'è stato un momento sabato che noi abbiamo trasmesso anche in diretta anche con la possibilità di ascoltare le testimonianze di una persona ammalata e di un caregiver però in quell'occasione il nostro vescovo Niccolò Anselmi ha fatto una riflessione proprio sulla sofferenza, sulla malattia e in particolare si è rivolto a chi lo ha colpito durante la settimana di Sanremo addirittura invitandola. Stiamo parlando di Giovanni Allevi ma sentiamo il nostro vescovo. Nel mio cuore porto tra le tante testimonianze tra quella del maestro Giovanni Allevi. Molti di noi, milioni di persone lo hanno visto dare la sua testimonianza dal palco dell'Ariston durante il festival di Sanremo. Ha parlato della sua malattia, del suo mieloma multiplo mi sembra e non ho mai avuto occasione di incontrarlo, di parlare con lui della fede. Non so se il maestro è credente o non è credente o comunque è credente di quale religione. Certamente ho sentito, ho visto in lui la presenza del Signore, ho visto in lui il Signore morto e risorto. Ci ha parlato del fatto che ha perso i capelli ma non ha perso la voglia di vivere e dopo due anni di silenzio, di malattie ha ricominciato a suonare. Volevo anche ringraziare i cameraman che hanno fatto indugiare le telecamere sulle sue dita malate che accarezzavano la tastiera del piano, del pianoforte, suonando questo suo pezzo tomorrow o domani che dice anche speranza, voglia di continuare. Ci ha regalato alcuni momenti veramente, veramente emozionanti. Il maestro ha poi concluso dicendo che riprenderà con quel suo sorriso, con quella sua voglia, con quella sua gioia, riprenderà a fare qualche concerto. Speriamo che nei suoi desideri ci sia anche Rimini, chissà che non possa passare qui da noi. Allora mi rivolgo anche a lui, maestro, se ha un buchetto anche per noi, noi qui a Rimini l'aspettiamo volentieri. Grazie e buona giornata e buona domenica a tutti. Una testimonianza bella è stata appunto quando una persona in medicina d'urgenza che aveva rimasto poco da vivere e dopo l'unzione, il giorno dopo, è guarita e la moglie viene sempre messa in ospedale a ringraziare Gesù che ha guarito il marito. Altre persone invece quando gli propone l'unzione ti dicono perché vuoi far morire mio babbo? Guarda che io cerco di farlo guarire, cioè Gesù che guarisce, ma però è una questione di fede, ogni persona è la somma di esperienze passate. E abbiamo sentito insieme al nostro vescovo anche Don Mirco che è uno dei cappellani dell'ospedale Infermi di Rimini dove si è tenuta questa partecipata celebrazione. Visto che anche noi dei giorni della Chiesa eravamo in concorrenza con Sanremo, tra l'altro con la serata delle cover, se non siete riusciti a vederla, c'è stata questa bella puntata con delle bellissime testimonianze nella serata di venerdì dei giorni della Chiesa che è già disponibile su Icaro Play. Io ve la consiglio perché sono state dette parole veramente belle da chi sta attraversando la malattia, da chi accompagna, chi è ammalato e può essere una bella occasione anche semplicemente di ascolto, di riflessione. C'è un messaggio che ci arriva da Colomba, il tema in questo caso è quello della sanità e dei lunghi tempi di attesa per le visite, quantomeno se uno le vuole fare in prossimità del proprio domicilio. Ovviamente il tema Ausla-Romagna amplia il tutto anche le realtà di fuori di Cesena, Ravenna e Rimini e quindi può capitare a un Ravennate di avere una visita prima a Rimini o a un riminesi di avere una Ravenna però con alcuni disagi che non tutti possono riuscire in qualche modo a ovviare perché diciamo che non tutti hanno la disponibilità di muoversi a chilometri di distanza e su questo Colomba che ce l'ha raccontato di questa sua visita che dall'agosto 23 è stata programmata al febbraio 2025 dice è vero a volte propongono posti che per persone anziane o con fatica a spostarsi sono problemi, a volte sono in strutture private che poi se devi fare un intervento nel pubblico non sono considerate e devi fare da capo, magari mi spiego male ma di problemi ce ne sono. Le statistiche sono come il consumo dei polli, risulta che uno ha testa senza considerare chi ne mangia due e lascia senza l'altro. Esatto proprio così e anche questa è una giusta considerazione. C'è anche qualche messaggio sulla nostra pagina Facebook di Tempo Reale, Gianfranco in modo particolare insomma anche leggendo il suo messaggio interviene su quanto detto in merito al sottopasso, sì perché anche a me aveva lasciato un po' perplessa questa nota, le due fasi, in realtà la prima ok la facciamo e probabilmente insomma speriamo anche che dia dei risultati, sulla seconda mi sembrava che ci fosse ancora un po' di incertezza sui tempi e Gianfranco ci scrive il solito metodo si racconta la notizia del progetto totale e me omettendo il vero cronoprogramma programma delle opere che visto i pochi fondi è sempre differente e più umile, nel senso un po' più insomma ritoccato al ribasso e poi insomma Gianmaria che commenta anche il messaggio simpatico di Valentino. Quanto aveva scritto poco fa Valentino, esatto. Sul fatto che non si trova mai ai bidoni o qualcuno che butti un trolley con dentro dei soldi, moneta corrente. No infatti ho trovato tanni, sedie, frigoriferi. Tra l'altro mai in buone condizioni. Ma in buone condizioni. Non è che ti buttano il divano nuovo. No infatti. Non ci sono più gli artigiani della qualità di una volta. Esatto, quelli hanno speso tutto per andare a Sanremo. Esatto, poi con delle gag veramente di una simpatia che ha voglia. Ma tu non ti preoccupare, stai tranquillo che loro hanno fatti il loro e vedrai. Ma avessimo noi la metà della metà della metà dello share. Ma non solo dello share ma anche dell'intuito di marketing che hanno alcune aziende di presentarsi a Sanremo. Ma anche dei di quello che prendono. Che cosa? Nel senso degli ospiti di Sanremo. Gli ospiti non ti hanno mai invitato neanche a condurre. Non mi hanno mai invitato. Perché adesso c'è il toto conduzione per l'anno prossimo. Eh, ho sentito, ho sentito. Cioè io ho una coppia Mulazzani-Alberici, la vedrei bene sul palco dell'Arton. Ma certo. Abbiamo un anno per metterci in forma, Alberici. Cosa dici, no? Abbiamo ben un anno per metterci in forma. È vero che abbiamo... Tu fai il direttore artistico, va bene? Io mi occupo di pulire i camerini. Ah, è questa la coppia. La conduzione domestica, quindi, dell'Arton. Perché noi vogliamo ridurre i costi del servizio pubblico, no? Visto che in tanti dicono, ma siamo sicuri che i soldi del servizio pubblico siano ben spesi in Sanremo? Eh, questa è la grande domanda che resta nell'aere, diciamo così. Ma adesso andiamo nella mia riccione. Andiamo nella tua riccione per un altro motivo. Per un altro motivo, questo positivo. Diciamo che noi non siamo dei grandi amanti della festa di San Valentino, ma in questo caso la promuoviamo. Perché in occasione proprio di San Valentino, quindi mercoledì, la cooperativa a Cuore 21 di Riccione ha lanciato un progetto. Si chiama Note per il Cuore ed è nato da un'idea del profumiere Andrea Meloni, che ha creato un profumo e una candela con l'intento di devolvere l'intero ricavato proprio a sostegno della cooperativa. Una bellissima, bellissima iniziativa. Il negozio è in Viale Dante? Sì, perché poi in realtà il profumo resterà in vendita, insomma, per la produzione che ne ha fatto il profumiere per diversi giorni. Poi sarà possibile anche prenotarlo proprio personalmente. Credo che sia una bellissima iniziativa e adesso andiamo a capire di che cosa si tratta. Ma Andrea, chi ti ha ispirato? Mi avete ispirato voi, per queste note olfattive. Tutti voi. Tutti, tutti voi. Se fai il profumiere come Andrea, il modo migliore per aiutare gli altri è mettere a disposizione il tuo talento. Ed è così che è nato Cuore 21 Parfum, un profumo frutto dell'incontro con Cuore 21 di Riccione. Dentro si annusa l'affetto per i ragazzi, ma anche la ricchezza della loro personalità. Mi è venuta un'idea, ho detto, perché non aiutare dei ragazzi che hanno bisogno del nostro supporto? E soprattutto mi ha ispirato il fatto che il profumo è fantastico. È fantastico perché l'odore che ricorda il mare, la felicità, la spensieratezza, la loro spensieratezza, mi ha dato la possibilità di creare questa noto olfattiva. Vaniglia, pralina, caramello che dà questa dolcezza della loro persona, che sono sempre sorridenti, diciamo che pensare a loro fa bene all'anima. Nello stesso momento però ho voluto creare una noto olfattiva più salata, che dà l'idea effettivamente della loro vita, della loro vita che non è semplice, non difficile, non è semplice. Tutto il ricavato del profumo, ma anche di una candela nati per San Valentino, andrà a sostenere le attività della cooperativa, braccio operativo dell'Associazione Centro 21, che accompagna una settantina di famiglie con bimbi e ragazzi con disabilità intellettiva, grazie a progetti di autonomia di vita e lavorativa. Il bello di questo progetto è che non è un nostro progetto, è un progetto nato da Andrea Meloni, che ha pensato a noi e noi abbiamo accolto e abbracciato con entusiasmo, perché quando un progetto parte dalla città è ancora più importante direi, proprio perché i ragazzi fanno parte di questa città e noi ci sentiamo parte di questa città. Questa esperienza profumistica si può dire che è stata molto bella, perché ho sentito quando mi ha spruzzato appunto il profumo di Cuore 21 ho sentito molto quella brezza di mare, quella freschezza. È proprio vero, perché il negozio ha proprio lasciato il segno con il cuore, l'ha fatto proprio anche apposta per noi, ricordando anche i ragazzi che non ci sono più. Dentro il profumo è come se ci siamo tutti insieme, insieme a noi ci sono anche loro, i sette angeli e questo a me mi ha ricordato loro e anche i momenti che abbiamo passato insieme. Bella, bellissima questa iniziativa e ringraziamo anche chi ci ha segnalato che sarebbe stata realizzata, per cui se così volete fare un regalo, che sia San Valentino, ma che sia qualsiasi altra occasione a qualcuno, ma ve lo volete fare anche per voi, una bella opportunità, c'è la possibilità sia di andare in negozi, in Viale Dante e quindi è molto facile anche da raggiungere, ma nella zona alba oppure anche tramite il sito, semplicemente cercando Cuore 21 Parfum, si trovano poi tutte le indicazioni per poter fare questo acquisto solidale. Raffinamento una notizia di politica, sappiamo che a giugno si andrà a votare, anche oltre che per l'Europea in 16 comuni, per quanto riguarda la provincia di Rimini e tante altre decine in tutta l'Emilia Romagna, si vanno a definire mano a mano anche i vari candidati, in questo caso l'ultima notizia arriva da San Leo, a San Leo era già ufficiale la ricandidatura dell'attuale sindaco Leonardo Bindi, che è espressione di una lista civica ma di aria centrodestra, ecco a sfidarlo sarà Elisabetta Vaccari, Elisabetta Vaccari è stata candidata di una nuova lista civica che si chiama San Leo Democratica e che mette insieme i gruppi consigliari dell'attuale opposizione, cioè siamo San Leo e passione e impegno. Si sono uniti, nei giorni scorsi c'è stato un incontro con la decisione di candidare appunto Elisabetta Vaccari, nata a Bologna nel 69, laureata in scienze matematiche, fisiche e naturali alla facoltà di chimica di Bologna e con esperienze prevalentemente in ambito farmaceutico, attualmente nata a Bologna ma vive già dal 2004 a Pietracuta di San Leo. E adesso torniamo a parlare di un nostro programma molto apprezzato, seconda puntata di Un Ponte con la Storia insieme al nostro Maurizio Ceccarini per parlare del 1982 della visita che Giovanni Paolo II fece nella nostra terra di Romagna con questo appuntamento al meeting, ma non solo, un bel dialogo, un bel confronto con Emilia Guarnieri che per tanti anni è stata presidente dell'Associazione Meeting per l'amicizia tra i popoli ma che coordinò un po' anche la visita e l'arrivo del Papa a Rimini in quell'estate dell'82. Allora vediamoci uno stralcio della trasmissione che come sempre poi potete trovare su Icaro Play. Le domande, noi ovviamente le avevamo preparate, però non erano state esplicitamente concordate con la Segreteria di Stato. Quello che forse io temevo o avevamo temuto è che se si programmava troppo magari chissà se tutto sarebbe stato poi possibile realizzarlo. Noi avevamo preparato queste domande, avevamo mandato a dire che queste domande esistevano, non avevamo mai avuto nessuna risposta né in positivo né in negativo. La cosa effettivamente si è giocata con Santo Padre in quel momento perché quando lui ha finito il suo speech, è scattato l'applauso ovviamente, a quel punto io mi sono alzata, mi sono avvicinata e sono andata a dirgli Santo Padre ci sarebbero delle domande, possiamo farle? Lui ha detto di sì, allora ovviamente noi eravamo prontissimi quindi chi doveva andare su è andato, sapevamo l'ordine, sapevamo tutto. La cosa più particolare da raccontare è questa, che la quarta domanda, il Santo Padre alla fine della terza fa un po' capire che forse abbiamo dato, a questo punto io ritorno su, gli dico ce ne sarebbe un'altra e lui a questo punto dice va bene, la quarta domanda è quella che consente poi a lui una risposta interessantissima e di una puntualità e di un'apertura e anche di una novità molto grandi. E questo è uno strancio della puntata, della trasmissione che potete trovare poi in integrale su Icaro Play ovviamente. Dove trovate tutte le nostre trasmissioni. Tutte le nostre trasmissioni, potete anche, c'è il pulsante elimina, potete cancellarle. Che non è vero, questa cosa non si può fare. No, non si può fare. Io posso farlo. Tu puoi farlo ma perché tu sei un amministratore. Ho del potere. Non farmi arrabbiare altrimenti i giovani della chiesa. Hai del potere. Allora se il Papa Giovanni Paolo II venne a Rimini nel 1982 diciamo che poi Papa Francesco è stato invitato più volte ma è un po' che non viene un Papa a Rimini. È venuto Papa Benedetto ma a San Marino ricordiamolo qualche anno fa. Quindi insomma si cerca di rinvitarlo nuovamente a Rimini, il Santo Padre. Quindi speriamo che Papa Francesco venga a trovarci. Però diciamo che c'è la possibilità di andarlo a trovare. Sì, è stata sicuramente una bella esperienza quella che hanno vissuto cento artigiani riminesi. Parliamo di confartigianato. L'associazione a livello nazionale ha organizzato un'udienza con il Papa. Settemila erano in tutto i presenti e tra questi anche un centinaio di Riminesi. Sono state belle anche le parole rivolte a loro da Papa Francesco. Le macchine replicano voi inventate. E poi insomma ha parlato anche della necessità di essere anche artigiani della pace in un momento caratterizzato purtroppo da tanti conflitti. Tra l'altro una bella cosa perché a Papa Francesco i vertici di confartigianato hanno offerto dei doni e tra questi ce n'è uno che si chiama la Madonna delle Grazie che è stato creato dal presidente della confartigianato dell'Emilia Romagna con l'argilla recuperata dopo l'alluvione dello scorso anno per simboleggiare la tenacia e il coraggio ma anche la rinascita delle attività umane e la tutela del territorio anche nel nome di uno sviluppo che deve essere sempre più sostenibile. Molto molto bello. Allora c'era il pericolo che ci fosse del maltempo e quindi erano tutti lì lo faremo il carnevale noi lo faremo. In realtà sì perché la pioggia è arrivata a sabato è passata la banda anche qua sotto la nostra sono venuti a trovare. Voleva festeggiarti? Certo. Che è un po' il nostro pulcinella. Ma diciamo che un po' sempre quando io arrivo al lavoro c'è la banda che mi accoglie. Vedendo tutte le mie qualità uno dice ma perché continua ad andare lì e non spicca il volo? Ci sono anche dei trattori qui sotto come a Sanremo sono venuti apposta per venire a trovarti. Con della cartelloristica a me dedicata a te. Con cose che non possiamo però riportare in diretta in faccia protetta. No, non si può. Ma perché? Però noi ci siamo soffermati su una festa dove c'era una madrina d'eccezione. Tra l'altro ho visto anche delle foto di amministratori locali e di Sant'Arcangelo e di Rimini emozionati a stringere la mano a fare il selfie con lei. Lei chi è? Lo sentiamo nel servizio. È stata Cristina D'Avena storica interprete delle più famose sigle dei cartoni animati la madrina della festa di Carnevale di Sant'Arcangelo attesa dai più piccoli ma anche soprattutto dai più grandi che sono cresciuti con le sue canzoni e che le hanno cantate a squarciagola anche oggi accompagnando il concerto. La festa in piazza e per le vie del centro è partita alle 14.30 con il corteo dei carri in maschera. Ce n'erano per tutti i gusti, dai più classici a quelli ispirati al film Barbie e a Super Mario fino al carro degli dei dell'Olimpo. Immancabili poi l'esibizione della banda musicale e il lancio di caramelle e gadget destinati ai tanti bambini mascherati. Centinaia le famiglie accorse nella città clementina per una festa baciata anche da un clima mite dopo la pioggia battente di sabato. Una nuova voce a leggere dei servizi la chiameremo The Voice è un'intelligenza artificiale che per noi insomma qui abbiamo chiesto anche di essere molto del nostro territorio perché l'intelligenza artificiale te la gestisce un po' fai l'accento di qui, fai l'accento di là e lei esegue. È così, è così per cui ringraziamo questa nuova voce. The New Voice Allora abbiamo delle novità sui nostri trattori Andrea Sì perché non staranno più fermi ricordiamo insomma la notizia del giorno questa mattina intorno alle 7.30 un corteo di trattori in un'organizzazione non sostenuta dalle associazioni di categoria Non dalla Coldiretti perché abbiamo chiamato loro forse qualcun'altra Hanno attraversato alcune strade del territorio via Quariano, la Stata Le 16 e la Marecchiese fino ad un'area verde a cavallo appunto subito dopo la cavalcavia tra Marecchiese e Stata Le 16 direzione centro lì si sono fermati con dei cartelli in tutto un centinaio forse anche qualcosa in più vedendo le immagini i trattori Sembra che però tra poco non resteranno lì con le mani in mano ma si rimetteranno nuovamente in strada attraversando un ampio tratto pensiamo anche con conseguenze quindi per il traffico un corteo stradale tra la rotonda sulla via Emilia e poi arrivando a quella su via Montescudo quindi attraversando da rotonda a rotonda questo tratto della Stata Le 16 e poi facendo ritorno nell'area di via Marecchiese quindi insomma se siete in strada potreste imbattervi in questo corteo io sceglierei strade alternative perché tra cantieri statale traffico mattutino e trattori direi che forse conviene strade alternative d'altra parte loro devono far sentire la loro protesta e quindi benvenga abbiamo anche aggiornato la nostra pagina Facebook proprio di News Rimini in modo tale che tutte le informazioni che ci stanno arrivando siano anche immediatamente fruibili sulle nostre pagine quelle che appunto poi sono anche più lette in tempo reale per cui assisteremo in qualche modo anche attraverso le immagini che stiamo raccogliendo a questo momento diciamo di sfilata come la vogliamo chiamare? un corteo siamo a Carnevale quindi insomma anche la sfilata ma sono trattori i trattori non sono mascherati i trattori? chissà se qualcuno ha anche fatto i carri mascherati ieri sai che alcuni hanno anche i trattori che li trasportano comunque insomma noi saremo qui a raccontare poi vediamo se prima della chiusura della nostra trasmissione riusciamo a tornare anche su questo tema adesso apriamo però la pagina sportiva abbiamo in collegamento il nostro Roberto Bonfantini una fine settimana sportivo spalmato in questo caso su tre giorni venerdì poi un sabato un po' di stacco e domenica direi di partire dalle note dolenti che sono quelle del venerdì anche se possiamo dire che in qualche modo sono note dolenti ma attese ma diamo il buongiorno buongiorno Roberto buongiorno a voi buongiorno a tutti anche perché domani si torna subito in campo di martedì così subito domani giochiamo al nostro campionato come ha detto mister Truise a fine partita giustamente ma giustamente non solo per i rimini per tutte le squadre di quest'anno perché insomma nel girone B c'è una squadra che è la padrona di questo girone in contrastata perché nessuno sta riuscendo a mettere il bastonetto alle ruote a questa squadra e questa squadra ovviamente è il Cesena quindi poi chiaramente c'è il derby c'è tutto quanto però il Cesena al momento attuale dopo 25 giornate ha 12 punti di vantaggio rispetto alla seconda che è la Torres e la terza è a 45 contro i 62 del Cesena quindi insomma sotto di 17 lunghette quindi è un campionato che è già chiuso di fatto ed è una squadra che ha perso la prima partita di campionato e poi non ha più perso l'unica altra sconfitta è stata quella in Coppa Italia contro i Rimini e poi con una formazione diciamo ampiamente rimaneggiata però insomma l'unica altra sconfitta viene infrittato per Rimini in Coppa Italia però per il resto nessuno a parte l'olbia la prima giornata è riuscito a mettere il bastone tra le ruote a chi sta dominando poi questo campionato quindi insomma non dico che era pronosticabile però obiettivamente parlando insomma tutto diceva Cesena insomma un momento particolarmente poi positivo certo era un momento buono anche per i Biancolossi ma a parità di momento buono il più forte vince tra l'altro insomma chiaramente Rimini ha avuto un atteggiamento molto prudente forse anche troppo prudente sotto certi aspetti per lo meno per una parte della tifoseria e alla fine diciamo che ha limitato tra virgolette i danni però diciamo che è stata una partita mai in discussione si è proprio vista la differenza tra le due squadre sono due squadre che in questo momento appartengono a due categorie diverse pur giocando nella stessa categoria ma ribadisco non è solo un problema di Rimini è un problema di tutte le altre squadre che stanno affrontando questo campionato contro insomma questo mostro tra virgolette di forza che è la squadra di Toscano in questo torneo insomma quindi chapeau non si può dire niente se non che è giusto così alla fine se una squadra è troppo più forte di tutte le altre è giusto che vada via già a metà febbraio diciamo che Gesena ha messo ha messo subito le cose in chiaro dopo poco più di dieci minuti è passata in vantaggio al tredicesimo a fine primo tempo al tredicesimo Adamo e poi in chiusura di prima frazione il gol di Spendi al quarantunesimo che chiaramente è stato quello che poi ha tagliato le gambe a Rimini perché andare all'intervallo sotto di un gol avrebbe potuto aprire degli scenari diversi tenuto conto che Rimini aveva anche Morra non al meglio Cernigò in panchina per onor di firma però soprattutto Morra che quando è entrato ha fatto vedere insomma comunque di essere l'attaccante che non è per caso è il bomber del Rimini perché è stato l'unico in grado di creare qualcosa diciamo di diciamo qualche piccolo pericolo per la porta di Pisseri però insomma Rimini chiaramente nella ripresa sarebbe giocata in maniera diversa invece sotto 0-2 contro una squadra che ricordiamo nel giro di ritorno ancora non ha subito gol quindi una squadra che non prende gol da una vita e quindi insomma era molto difficile pensare comunque di poterla rimettere in piedi dovendo rimontare addirittura due reti quindi questo è quel gol che poi ha chiuso di fatto i giochi quindi si sarebbe potuto quasi non giocare il secondo tempo diciamo che adesso domani il Rimini può ripartire con una squadra decisamente più alla portata e lì vedremo qual è il valore del Rimini in questo momento eh sì perché la Recanatese sicuramente è una squadra che invece diciamo una squadra con la quale Rimini ce la può giocare l'andata tra l'altro ci fu una sconfitta diciamo beffarda per come arrivò perché Rimini si trovava sotto 0-2 riuscì a rimontare al novantesimo per poi prendere i gol in pieno recupero e quindi uscì sconfitto due a tre al Romeo Neri quindi insomma c'è anche voglia di rivincita da parte di Biancorossi per quel match d'andata tra l'altro anche molto sfortunato perché Rimini per ricordo insomma tante opportunità segnò poi anche un altro gol del 3-3 ma fu annullato ma fu annullato insomma proprio sempre nel recupero ovviamente quindi quella è una partita sì che Rimini deve giocare ho visto Roberto che ci sono diverse assenze nelle file riminesi anche qualche gradito ritorno come Morra che ha giocato anche nel derby che però insomma era in ripresa e domani dovrebbe esserci a pieno c'è qualche preoccupazione da questo punto di vista ma no sono diciamo normali infortuni che capitano nell'arco della stagione diciamo che Morra è stato anche un po' preservato proprio in vista di un match che per i Rimini al di là chiaramente degli umori della tifoseria perché il derby è sempre un derby però il match con la Re Canatese è un match più importante per la classifica delle Rimini rispetto a quello con il Cesena e quindi insomma Rimini che punta sicuramente più verso questa partita e anche alcune scelte sono state fatte anche in quest'ottica ma diciamo saggiamente perché comunque anche il Miglior Rimini contro il Cesena difficilmente la può spuntare cioè ci vorrebbe una serie di concomitanze favorevoli abbastanza insomma complicate invece con la Re Canatese se la può giocare ecco io credo che il Rimini però sul campo della Re Canatese deve essere un Rimini diverso rispetto a quello che abbiamo visto contro il Cesena e contro il Perugia deve essere un Rimini più propositivo non può essere un Rimini che si può limitare a speculare sull'avversario come è stato fatto diciamo può essere un atteggiamento concepibile in parte poi dipende dalle filosofie di gioco però contro due squadre molto forti in salute come Perugia e Cesena con il Perugia pagato con il Cesena contro la Re Canatese il Rimini deve fare la sua partita deve giocare per vincere a che ora si gioca? può vincere a che ora si gioca? domani? alle 18.30 quindi insomma chiaramente seguite il nostro sito per tutti gli aggiornamenti puntuali minuto per minuto passiamo invece il pregare alle 12.30 di oggi beh certo quindi stasera il nostro telegiornale gli appuntamenti sportivi assolutamente bravo Roberto a ricordarlo invece passiamo alle note liete della domenica in particolare ora parliamo di basket che conferma il suo buon momento eh sì Rivera Banca Basket Limin ha vinto sei delle ultime sette partite giocate è in forma perché poi sappiamo come è arrivata la sconfitta l'ultima sconfitta sappiamo insomma che è stata una sconfitta che è arrivata l'ultimo tiro purtroppo pesante contro Cividale ma non torniamo su quella parliamo delle cose positive perché Rimini ha dimostrato di essere più forte di Agrigento che non mi ha fatto devo dire la verità una grandissima impressione ma che ha avuto il merito di cercare di rimanere attaccato al match fino alla fine 73-61 non si è segnato tanto però insomma Rimini in difesa è una squadra super in questo momento ha concesso 61 punti appunto all'avversario quindi una squadra che comunque è in salute anche sotto quell'aspetto nella prima metà parte di gara Rimini ha giocato molto bene 21-16 il risultato del primo tempino 22-17 quello del secondo con medie di tiro molto importanti soprattutto nel tiro dall'arco perché aveva il 50% aveva anche il 50% da 2 quindi insomma sicuramente ha tirato molto bene poi dopo nella seconda parte di gara invece Rimini ha segnato 30 punti 10-20 rispettivamente concenendone 13-15 quindi comunque facendo soprattutto della difesa il suo punto di forza anche in questa seconda parte di gara ricordiamo una cosa che non era mai successa in questo campionato che il primo canestro da parte degli americani è arrivato dopo la metà della partita insomma con Marx che si è sbloccato praticamente in avvio di terzo parziale e addirittura Johnson dopo 26 minuti di giocaffettivo diciamo che questa è una buona notizia perché Rimini è riuscito a compensare una giornata di scarsa vena dei suoi americani e questo vuol dire che il resto della squadra gira comunque eh sì vuol dire che Rimini ha gli italiani molto forti tra l'altro Rimini ha avuto un apporto stratosferico dalla panchina perché a parte Simeone che è partito fortissimo ha segnato subito i primi sette punti di Rimini però dalla panchina sono usciti tutti i giocatori che poi dopo la fine se vogliamo hanno fatto la differenza compreso Tomassini che è stato top scorer con 17 punti nonché MVP di questo match ma non dimentico neanche alcune giocate fondamentali di Tassinari che anche lui è partito invece in quintetto però è stato davvero importante nell'arco del match in alcune fasi anche nel mettere in moto i compagni e anche le tre triple che sono state anche in questo caso molto molto importanti da parte di un giocatore che quest'anno sappiamo insomma aver vissuto non momenti brillantissimi come Scarponi l'enfant du pays che però ha fatto davvero una buona prestazione anche in questo caso quindi insomma tanta roba della panchina molto bene gli italiani e comunque gli americani anche in una giornata in cui non hanno di certo brillato insomma vorrei sottolineare un canestro di Marx in un momento particolarmente delicato del match quando la Moncada stava cercando appunto di rientrare di forza nella partita e anche i 18 rimbalzi di Johnson che insomma avrà avuto medi di tiro davvero rivedibili 2 su 9 però Marx ha fatto peggio 1 su 9 nel campo però insomma 18 rimbalzi sono 18 rimbalzi e rimini anche straminto di 44-35 più 9 rimbalzi questo è insomma stato un dato da sottolineare per le differenze in campo diamo proprio l'ultimo minuto perché poi prima di salutare e finire la trasmissione dobbiamo riparlare dei trattori anche con il nostro inviato sul campo per cui ti chiederei proprio sinteticamente il risultato del vol importante una bella giornata per le ragazze di San Giovanni Marignano e anche l'appuntamento per questa sera allora sarò telegrafico 3-0 su Messina grandissima partita da parte delle ZIE 16 punti concessi nel primo 22 nel secondo e 15 nel terzo insomma contro una squadra forte quindi molto molto bene e ancora il sogno playoff rimane aperto questa sera dalle 19.35 appuntamento con Calcio.Basket ospite per RBR a Lumba a voi grazie grazie mille Roberto buon lavoro buona giornata aspettiamo te la squadra di Calcio.Basket a partire dalle 19.35 questa sera dopo la prima edizione del nostro telegiornale allora torniamo in chiusura sulla notizia con cui abbiamo aperto la protesta dei trattori che è arrivata anche nel Riminese ci è stato detto tra l'altro che a breve si rimetteranno forse si sono già rimessi in moto i trattori che per lungo tempo abbiamo anche alcune immagini che ci sono giunte sono stati fermi in un'area a ridosso della Marechiese chissà se è su un trattore oppure a terra siamo in collegamento con il nostro Maurizio Ceccarini che è lì sul posto per seguire la protesta Maurizio Sì, manca ancora una ventina di trattori che si rimettano sulla statale adriatica stanno uscendo da questo campo che si trova tra la statale adriatica e il regatore dell'Ausa siamo ai padulli sentite anche i clacton il rumore che stanno facendo si stanno immettendo in direzione nord quindi diciamo la direzione è quella Riccione Bellaria salgono sul cavalcavia della Marechiese poi scendono e da lì prenderanno le strade per le loro aziende agricole e ci sono anche comunque le forze dell'ordine che presidiano i punti diciamo di snodo del traffico se questa mattina erano state anche colte impreparate perché questa è una manifestazione che non è stata annunciata ufficialmente in questo momento questo tratto nello specifico diciamo che è una l'altezza dei padulli fino al stadio del baseball è bloccato dai trattori però ripetiamo stanno uscendo gli ultimi in questo momento quindi nel giro di pochi minuti dovrebbe risolversi la situazione e anche da pulire un po' per terra perché ovviamente quanto bestia che piccoli lasciano un po' di terra sul terreno ci sono polizia locale ci sono anche diciamo le forze dell'ordine che in questo momento stanno presidando il traffico una manifestazione che non ha bandiere di associazioni di teoria non ci sono bandiere di partiti non ci sono bandiere di sindacati ci sono tanti tricolori che quasi tutti stanno esponendosi i loro trattori poi anche molti cartelloni con gli slogan con la condanna alle politiche che ha detto dell'agricoltore in questo momento stanno pesantemente penalizzando il settore soprattutto con costi che vengono accollati a loro loro prendono ci sono anche dei cartelloni dove si citavano il prezzo del grano il prezzo di ortaggi o frutta a loro vengono pochi centesimi quando poi la distribuzione al prezzo pienato del consumatore vengono anche diversi euro ecco Maurizio dicevi bene a dire che non ci sono sigle dietro non ci sono associazioni noi questa mattina avevamo fatto anche questa verifica quindi è una manifestazione completamente spontanea ma ti hanno spiegato come si sono organizzati perché comunque ritrovarsi oltre cento trattori tanti agricoltori insieme mi immaginiamo insomma ci sia stata una organizzazione dal basso sì sì si tratta di un'organizzazione che è girata fra le singole aziende agricole evidentemente poi c'è anche chi ha contatti con altri agricoltori di altre zone perché questa è una protesta che lo sappiamo si è diffusa in tutto il territorio nazionale hanno detto che non dovesse esserci risposte sono pronti ad altre iniziative vediamo poi come si evolveranno le cose anche se queste parziali risposte al governo italiano sono ritenute in questo momento soddisfacenti per una tregua in questo momento vi aggiorno perché molti dei trattori hanno fatto la rotatoria del Stato del Bevo stanno tornando indietro sulla rampa in discesa opposta a cui sono saliti in direzione sud sempre sul cavalcavia della Marechese quindi c'è un po' di disagio per il traffico inevitabile diciamo che ancora per qualche minuto dovrebbe essere ancora necessario per defluire questi mezzi agricoli tutto in questo momento sotto il presidio del forte dell'ordine quindi un corteo diciamo lo spiegava bene Maurizio non si sono sentiti del tutto rassicurati anzi direi per niente sul territorio riminese gli agricoltori anche da quello che è stato detto nei giorni scorsi dal ministro dal governo sappiamo che dopo le rassicurazioni arrivate dal governo italiano molti agricatori hanno deciso insomma di smettere con questa protesta Rimini arriva oggi perché probabilmente vogliono stare allerta Maurizio noi ti ringraziamo poi chiaramente documenteremo tutto con interviste e immagini nel corso e nei nostri appuntamenti informativi a dopo grazie noi siamo arrivati in conclusione 10 e 30 minuti puntata ricca puntata ricchissima grazie anche per tutti i vostri commenti ci avete aiutato anche voi a tirar fuori a sviscerare molte delle tematiche affrontate e anche di più come ad esempio quella delle visite mediche che noi non avevamo messo in conto ma che è sempre comunque un tema molto sentito da parte dei cittadini noi chiudiamo qui l'appuntamento per oggi tra pochissimo faccio cose vedo gente con Max Alberici accompagnato da Francesca Magnone quindi informazione nuova ad aprire questa settimana ma comunque sempre ben oliata anche questo tipo di informazione noi ci ritroviamo invece domani mattina con tempo reale a partire dalle 9 circa buona giornata a tutti quando mai le 9 circa 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 tempo reale l'informazione in diretta della provincia di Rivi ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La K sorprenderemo te con tradizione e qualità la pasta fatta in casa croccanti pizze con impasto speciale pesce fresco e fantastiche crudità di mare goditi un momento di piacere ristorante La K San Giuliano Mare Rimini 0541 53 825 ora La K puoi trovare tutto lo sport che vuoi buona visione e buon appetito onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini Andrea Vittori offre servizi funebri completi un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede sono al vostro servizio da oltre vent'anni con serietà e professionalità offro la qualità al miglior prezzo onoranze funebri San Gaudenzo via Lago Maggio 35B a Rimini 0541 3071 70 Radio Icaro I don't know where my baby is but I'll find him somewhere somehow I've gotta let him know how much I care I'll never give up looking for my baby been around the world and I I can't